Lo facevano levitare. Come avveniva la levitazione di Demofilo Fidani? Commento. Era seduto sulla solita poltrona. Sulle ginocchia aveva il plaid perché era anziano e aveva freddo. Sul plaid aveva il bastone con il manico d'argento con cui si aiutava camminando. Al termine delle sedute, per consumare le energie residue che non potevano ristagnare nell'ambiente, l'entità che comunicavano attraverso Demofilo lo facevano levitare con tutta la poltrona che si innalzava lentamente, dondolando verso il soffitto. Per la paura di precipitare, Demofilo si raccomandava alle entità. Toccato il soffitto con la testa, iniziava la discesa, sempre lenta e dondolante, fino a giungere a terra senza danni.